Finalmente, dopo 8 anni, i Blur hanno tirato fuori il loro nuovo album. Io sono Rambleo e divulgo musica e oggi parliamo di The Ballad of Derren dei Blur. Se questa tipologia di video ti piace, lasciami un like proprio qui sotto. E comunque, i Blur con questo disco hanno fatto un album cortissimo, 36 minuti di musica, che poi con la versione deluxe arriva a 42 minuti, due tracce in più. Allo stesso tempo, i Blur hanno creato un album che non c'entra a nulla, con la storia recente dei Blur. I Blur hanno scoccato la freccia e hanno tirato fuori un capolavoro. Era da tanto che non mi esaltavo così per un album. Io non ho parole per questo album dei Blur. The Ballad of Derren è un disco che arriva dopo il mezzo flop del disco precedente. The Magic Whip a me, sinceramente, non è piaciuto molto. Naturalmente è gusto personale, ma scrivimi sotto tra i commenti che cosa ne pensi appunto di quell'album. E quando è uscita la prima traccia, ovvero The Narcissist, le orecchie sono rizzate. Ho fatto una reaction, te la lascio qui. Vai a vedere come mi sono esaltato per bene. All'interno di questo album, il buon rambleo sente sentimento. Io sento la voce di Damon Albarn, diversa dal solito. Sento la chitarra di Coxon come non la sentivo da tanto tempo. Bellissimi arpeggi, bellissimi giri di chitarra, anche molto rock, che possiamo sentire nelle tracce, come per dire, all'interno di Barbaric. Oppure in Searcher Square, un pezzo capolavoro. Dove veramente quelle chitarre danno quel senso di apocalittico, quel senso di presa male, chiamiamola così, che a me piace tanto. Ma attenti, non è un disco preso male. È un disco molto riflessivo. Ma parliamo successivamente di quello che il disco parla. Parliamo dei suoni. La prima traccia, The Ballad, è la traccia che appunto mi ha un po' spiazzato. Ma è quello che un po' mi aspettavo anche appunto dal titolo della traccia. È una classica ballata, dove la voce di Damon già inizia a far capire che cosa sarà successivamente il disco. Ma con le tracce successive, Searcher Square e Barbaric, sento già qualcosa che sta cambiando. La chitarra di Coxon è qualcosa che arriva dall'oltretomba. È qualcosa che arriva dall'apocalisse. Ti do un piccolo trick, una piccola curiosità. Searcher Square è una traccia che è stata quasi ispirata, anzi ispirata, è stato proprio preso il suono di chitarra e il modo di approccio della voce da un pezzo di David Bowie. Si chiama It's No Game e te la faccio sentire un attimo. È una cosa incredibile, proprio perché i blur con questo disco come sonorità si sono affidati tantissimo a David Bowie, ma allo stesso tempo si sono affidati tantissimo a Leonard Cohen. Le parti vocali sembrano anche delle parti vocali molto simili a quelle di Alex Turner. e allo stesso tempo la musica ricorda anche il primo disco dei Velvet Underground, ovvero Velvet Underground e Nico. Tanta musica bella ha ispirato questo disco e si sente veramente un botto. Barbaric invece è una di quelle tracce che ti fa ballare, proprio perché la chitarra è quel giro ballerino molto indie rock anni 2000, che va a ricordare anche il vecchio Britpop di una volta dei Blur. La cosa particolare è che all'interno di questo album non troviamo la classica Song 2, Coffee & TV, non troviamo i classici pezzi che ti fanno saltare dalla sedia e ti fanno ballare come non mai. Ragazzi, questo è un disco che dovete ascoltare in cuffia, per bene, o nel vostro hi-fi di fiducia, seduti con le casse sparate in faccia che vi spettinano i capelli. Ma tra tutte, la canzone che più sto ascoltando da quando è uscito questo disco è Goodbye Albert. La malinconia della chitarra di Coxon, legata a una base, a un arpeggiatore di sottofondo elettronico di tastiere, mi ricorda i vecchi tempi degli anni Ottanta, la New Romantic inglese. La voce appunto di Damon Albarm è divisa in due parti. Il corretto, che sentiamo dietro, è una voce robotica, che va a ricordare appunto le voci che utilizza nei Gorillaz. Quanta sperimentazione c'è in questo album. Tutto questo è venuto fuori grazie al produttore, ovvero James Ford, che non è altro che il produttore del grande capolavoro degli Arctic Monkeys, ovvero AM, un disco incredibile. E di fatti le sonorità le riusciamo anche a sentire all'interno di questo album. Le batterie cadenzate, i pezzi che non esplodono quasi mai, quasi che vanno a ricordare un waltzer. Difatti questo qui può sembrare anche quasi un disco solista di Damon, sembra quasi un disco cantautoriale, ma non è così. È un disco che racchiude appieno quello che i blur sono. Non sono nient'altro che dei ragazzi che hanno quasi 60 anni. E parliamo infatti dei testi. I testi all'interno di questo album vanno a ricordare, a richiudere quasi un percorso. Solo la classica The Narcissist fa capire proprio che cos'erano i blur a principio e di come loro si sentivano ricoperti dalla folla, acclamati dalla folla. La gente che oramai è passata, quello che è stato attraversato durante la vita. È un disco molto riflessivo, ecco perché ci piace. È dai tempi di tender, per dire, che non sentivo delle sonorità del genere dei blur. E bisogna andare indietro nel 99 con 13. Dopo questo pippone che ti ho fatto, andiamo a vedere il disco. Parola d'ordine per questa versione in CD, ovvero la versione deluxe compostezza. Mi piace tanto tanto perché guardate com'è pieno. Bello ciccione, bello pesante, al tatto molto figo questo cartoncino mi piace tanto. A molti non piace il digipack, a me fa impazzire. Anche perché adesso i dischi in plastica non li fanno più o sono ancora in pochi quello che fanno, per fortuna. E devo dire che questo in cartoncino questa volta mi è piaciuto. Ti voglio far notare subito che il logo blur sulla versione deluxe è bianco, mentre nella versione vinile e nella versione CD normale è rosso. Quindi troverai il logo bianco solo sulla versione deluxe. Versione deluxe che conta anche altre due tracce. Ovvero The Rubby e The Swan. Pensate che doveva essere questa la copertina dell'album con Darren, proprio perché è dedicato a lui, alla guardia del corpo, allo rodi dei blur. Ma poi è stata scelta questa immensa fotografia incredibile, una delle più belle copertine che ho abbia mai visto. Il libricino è molto figo perché è attaccato in pratica allo stesso digipack. Dentro il librettino ci sono tutti i testi. Ogni testo è accompagnato da un piccolo disegnino. E mi piace veramente tanto questa cosa. Molto indie anni 2000. Che vanno proprio a esplicare quello che appunto anche il testo intende. In Goodbye Albert mi piace tantissimo il piccione sulla statua. Il CD lo troviamo infine all'interno dell'ultima tasca. Dopo ti faccio vedere la prima. La cosa bella è che è ricoperto il CD. Non si trova il CD nudo e crudo all'interno della tasca. Si trova dentro quest'altra taschina che tiene i colori comunque che vanno a ripercorrere il concept dell'album. Con la solita scritta Blur. Molto nei 50 a vedere anche il nome dell'album con scritto By Blur. Mentre nella prima tasca che ve l'ho lasciata alla fine. Guardate che cosa c'è. La copertina dell'album in formato più grande. Ma è bellissimo. Nudo e crudo naturalmente. Senza il logo Blur. Senza il titolo dell'album. Come puoi vedere qui abbiamo il titolo dell'album e la scritta Blur. Qui invece abbiamo la foto nuda e cruda. Fantastica. E dietro ci sono poi tutti i credits. Devo dire che questo Digipack molto semplice. Mi piace perché non è che deve contenere chissà che. È giusto. Sono veramente contento dell'acquisto. Io di solito acquisto quasi sempre i Deluxe. Proprio perché hanno sempre qualcosina di diverso. A parte le due tracce. A parte il logo. C'è sempre comunque qualche booklet in più. Una fotina. Un qualcosa sempre di diverso. Che ho apprezzato. Come dico sempre. Gli artisti cambiano. Gli artisti crescono. E i Blur sono 35 anni che sono in pista. E questo disco fa capire proprio quanto i Blur abbiano avuto la necessità di tirar fuori un disco del genere. Ripeto. Non troverai mai una Song 2 all'interno di questo album. Ma troverai una The Narcissist che è una canzone che riprende appieno lo spirito dei Blur attuale. Pensate che questo è un disco dedicato a Darren che come ho detto prima non è altro che la guardia del corpo. Darren è proprio lui. E doveva finire nella copertina dell'album ma alla fine è stato scelto tutt'altra roba. E la cosa che mi piace anche tanto è che questa copertina ricopre appieno quello che il disco è. Questa parte è una piscina calma e serena ma dietro c'è la tempesta. Una tempesta che sta arrivando o che è già andata via? Questo naturalmente viene lasciato a intendere a noi sia dal fotografo naturalmente e sia dalla concezione ed idea che i Blur hanno per questo album. Ma di cosa parliamo ragazzi? Ma che album è? È pazzesco! E l'esigenza dell'artista la si vede anche nella scrittura. Pensate che Damon Albarn ha scritto questo disco nella tournea americana di Cracker Island dei Gorillaz. In ogni albergo in cui loro si fermavano in America lui tirava su uno studio homemade e scriveva tutto quello che gli veniva in mente. Pensate che le tracce erano così tante. The Ballad of Darren doveva essere un doppio CD. Sono curioso adesso di sentire la tua. Scrivimi qui sotto tra i commenti se hai ascoltato questo album e che cosa ne pensi di The Ballad of Darren. Ho fatto anche altre recensioni. Ti lascio questo video perché sono sicuro può piacerti. Se questo video ti è piaciuto iscriviti al canale qui sotto così da dare una mano a me e far crescere sempre di più la community. Questo video è finito ragazzi e noi ci vediamo alla prossima. Ciao 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 ciao!